appoggiano la sua pianta non è registrato pronti? dai diocca ti da un pugno adesso non ti lascia mai le stesse diocca in pratica sono mica pesca adesso perchè l'ultima vedi su te la c'è in là adesso bisogna rifare le carte adesso mi ricordo però aspetta e chi di merda devi tenerti i danni si si e chi dice merda chi non dice merda chi prende la carta e non ce le ha pesca ah ok vedi ci giocavo quando avevo 7 anni io sono rimasto 7 anni si o no? adesso adesso il gioco comincia ad avere un senso a lei che non ho capito mi hai da far far merda che le ha sempre le stesse carte no 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 aspetta mi hai da far far aspetta adesso non mi chiamiamo me qui questa è la tua questa è la sua questa è la sua non 4 dammele bere bastardo di merda aspetta 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 sei mai l'ultimo sei mai l'ultimo è come esso l'ultimo cazzo si è arrivato prima lui si o no? allora è tua questa si si chi è che l'ha detto per ultimo? lui tu allora le hai da fare le gambe no no si ma non dai metterle qua somma ah si ho fatto il culo ho fatto anch'io merda ma vi piace il gel tu si me le da storte che le hai fatte su male faccia di più dammela bene si ma johnny me le da 4 a culo sei scorretto siccome mi potete andare al culo o quell'altro era scorretto non cazzo ma ti fa tutto ma ti fa tutto fai tutto fai tutto ruela 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 si viaggia si villa si balla ma adesso non balle il primo giro non balle non balle cazzo eh eh dio cazzo ti puoi dire non balle no non la prendo voi ah mica le ho fatte io le carte eh cioè ma non balle che cazzo fai che cazzo fai me ne vale meglio cazzo pesca pesca ma non balle il primo giro ma non balle il primo giro guarda che è imbroglione eh è sussato così cazzo le carte male la mano per ultima e dopo merda il primo giro poi se lo tenete qua è finito difficile in mezzo poi era qua come il primo giro non vale allora il primo giro non vale se non sei pier vale non vale un pezzo di merda un pezzo di merda se mi ha dato delle carte di merda c'è tutto è diverso adesso dai dio cazzo dai dai dio cazzo chi è che non ha toccato io non l'ho toccato vai fa vedere le carte dico perché? mi hai fatto la finta e tu hai toccato il mazzo hai fatto la finta si vai dai continua oggi la prossima volta hai fa merda con il braccio però però solo per vedere cosa ti faccio però cosa ti rimane scoperto così? dai dio cazzo dio cazzo la cazzo 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 tutta colpa è pierre è le luca che fa tutte le robe spara spara io voglio giocare la scopona voglio giocare la merda è figo merda è figo merda si capisce di più o meno l'altro ancora l'acqua tu hai mai riega cazzo dio cazzo guarda ti giuro se metti la mano l'altra cazzo quando fai la finta potrai anche dire merda si però non devi trovare il mazzo tutto che il mazzo guarda aspetta e lascio quanto ah no lascio non c'è guarda mi prendo io i chili di merda voi due fateli dopo quando lo fa lui è un cazzotto bisogna giustarmi un po' di merda ecco lo devo fare è lunghissima cazzo guarda quelle carte non te preoccupare ho un'ora e senti che le carte facciamo insieme però mi senti quasi al di lupo e poi passa male perchè te le metti qua vai smettila di il cagato se era cosi con sta manina monca dio cazzo porco dai aspetta un attimo dio cazzo eh dio cazzo no ahahah guarda l'ho già presa dio cazzo madonna troia non, ma, 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 ma ehi continui ma male ha già non è giusto cos'è anche johnny però l'avrà senta un attimo la mano a mano aspetta 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 guarda che la metti prima di me con la mano di merda un attimo che son tese vai 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 a questo gioco fai il 3 a tutti quanti facciamo il 3? non lo mette via, non lo mette su ci devo aspettare Pierlu è scambio gioco ma ci stiamo passando tutti la stessa cazzo dai! si ma dammi la carta! mi fa bella mica lo 5 però ragazzi è morta! è morta! vai in figa! è figo! adesso lo metto su youtube questo no ma l'altro che va